Si parte con Ruffoli Lung che cerca la partenza a volante, mentre ha sbagliato Revolver, Ruffoli Lung va su Raffolo LB e passa di forza. E così l'imbattuto Ruffoli Lung è ancora una volta in testa, il favorito Rappido Kei è partito quinto. Stappo evidente, 13-4, ma Ruffoli è dove voleva essere, al comando, nei confronti di Raffolo LB, terza posizione per Richmond, di fuori rimasto Rione Desi, la seconda pariglia va a farla Rappido Kei, in anticipo su Ruggiada dei Rex. Menta a tabellone, finito Revolver, in coda c'è Rero Bintor e poi Ravenna. 28-8 questi di 400, con Rione Desi che risale per gradi, Rappido Kei è una buona seconda pariglia, in anticipo su Ruggiada dei Rex, in testa c'è sempre Ruffoli e la corda Raffolo LB. I 600 di Ruffoli si completano in 44-6, 31-2 dall'imbocco da Curva al Palo, ora si va pianino, seconda curva che inizia adesso, Ruffoli in vantaggio, a destra Rione Desi, alla corda Raffolo LB, sono i due di Bareggi, in seconda pariglia, lo straniero Rappido Kei, con Pietro Pro di sopra, terzo sotto Richmond, in pariglia Ruggiada dei Rex. Un minuto e due decima, metà gara, 31-4 di tutto riposo, Ruffoli Lung mantiene tre quarti su Rione Desi, Rappido Kei, sempre in seconda pariglia, in anticipo su Ruggiada dei Rex, alla corda Raffolo LB. Il chilometro di Ruffoli Lung si completa in questo istante, in 1-15-1, 30 e mezzo, dal Palo Metale top posta, l'errore di Rapido Kei con Pietro Gubellini. Deludente prestazione da seconda pariglia, poi di galoppo senza fare nulla, in vantaggio Ruffoli, Rione scoperto, migliora Ruggiada, alla corda Raffolo LB. Questo paletto in 14 e mezzo, 1-29-7 per i 1-2, con Ruffoli Lung e continua ad allungare, Rione Desi di fuori da tanto, Raffolo LB bene alla corda, Ruggiada dei Rex che prova a muovere in terza ruota, Rione Desi cerca di portarsi su Ruffoli che per adesso è sempre in controllo. Raffolo LB bene appostata la corda, la retta d'arrivo con Ruffoli in vantaggio, Ruffoli che sposta Ruffoli a 1-1,5 su Raffolo LB. Ruffoli Lung prosegue così, chiaro e netto, viene a vincere nei confronti di Raffolo LB, mentre la volata per il terzo posto è vinta probabilmente da Roxane Va. 1-59-4 il totale, tutto facile per Ruffoli Lung, Roberto Andreghetti, Luigi Fabbi, 5 su 5 per loro. Ecco l'immagine con Ruffoli Lung, viene a vincere facile, in controllo, Frustino in spalla, buona seconda, Raffolo LB che ha fruito di un buon percorso, si qualifica per la finale, molto più indietro. C'è lotta per il terzo e probabilmente Roxane Va che rientra di precisione a Rione Desi. 1-14-6 Ruffoli Lung, Andreghetti, Fabbi, la quota dice 3,1.